C'è un dibattito molto acceso, fervente, sulla riforma Calderoli, quella dell'autonomia differenziata, lei è stato relatore di questo provvedimento. Ecco, allora, quali sono i rischi, se ci sono dei rischi, e quali sono invece le opportunità che questa nuova forma istituzionale può garantire anche a una regione piccola come la nostra? Secondo me ci sono più opportunità che rischi. Grazie ai correttivi che sono stati apportati, soprattutto dal gruppo di Fratelli d'Italia, al test originario, grazie a questa riforma noi garantiremo su tutto il territorio nazionale, in maniera uniforme, quindi da nord a sud, i livelli essenziali delle prestazioni. Una riforma che gli italiani aspettano da 20 anni. Questo significa che ci sarà parità di trattamento tra tutte le regioni, che saranno determinati e finanziati i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, senza distinzione tra regioni serie A e regioni serie B. Ecco, sempre sul tema dell'autonomia, uno dei problemi, delle questioni aperte per la regione molise è quello della sanità. Da un quindicennio la sanità molisana è commissariata, si sta lavorando, questo con una sinergia tra ASREM, struttura commissariale, tutti i livelli istituzionali per uscire da questa fase. Che tempi lei può immaginare e soprattutto che cosa c'è da fare? I tempi non li posso preventivare, ma spero che tutto si possa fare nel più breve tempo possibile. Ci sono delle iniziative che sono state già messe in campo sugli ospedali, penso all'emodinamica, la nuova emodinamica di Campobasso, penso al protocollo d'intesa con l'Unimol, penso a quanto si sta facendo anche per gli altri ospedali, per Termoli e Isernia. Insomma, un grande lavoro di squadra che porterà dei frutti ottimi, credo, per questa regione, per la sanità di questa regione, almeno a livello strutturale e di offerta sanitaria, che oggi purtroppo langue anche e soprattutto sulle liste d'attesa, ma in questo senso è anche il governo che ha posto delle norme che ci daranno una mano. Quindi io sono fiducioso, sono fiducioso per il 2024 e sono fiducioso del lavoro di concerto che faremo, che faranno le istituzioni per aiutare la regione molise.